Eccolo, Android Marshmallow, nome confermato, che vediamo in questa Developer Preview 3 con un breve video tour. Si parte dall'animazione di Boot, che è stata modificata da parte di Google con un nuovo logo. Di fatto nulla di eclatante, nulla di realmente utile, però i nuovi quattro pallini colorati iniziano a muoversi con una serie di animazioni a cerchi che girano, sole, insomma una serie di icone animate che vanno poi a completarsi realizzando la scritta Android. Una volta che apparirà la scritta Android, praticamente il boot è finito e il sistema si avverà. Il sistema si avvia in maniera abbastanza rapida, mi sembra anche più veloce di Lollipop, chiaramente dipende dal vostro dispositivo, in questo caso è un Nexus 5. L'animazione di blocco e sblocco non cambia rispetto alla precedente Developer Preview, che non vi avevamo fatto vedere in video, ma che comunque non cambia l'essenza di Android M. Android M che però adesso è ufficiale, o meglio è ufficiale il fatto che si chiama Marshmallow. È un nome che avevamo già anticipato più volte tramite rumors, sul quale c'era abbastanza scetticismo, ma che alla fine è proprio questo, Android 6.0 Marshmallow. L'easter egg non funziona, è lo stesso della precedente Build, quindi non è ancora definitivo, però di fatto il numero 6.0 è ufficiale. Questo cosa vuol dire? Fondamentalmente niente perché Android M Developer Preview 3 è identico alla precedente Developer Preview, fatto salvo alcune animazioni. Ci sono infatti maggiori effetti di movimento, quando si vanno ad aprire le applicazioni c'è una sorta di riempimento dello schermo in tutte le direzioni, questo vale sia per le applicazioni di Google, sia per le applicazioni di terze parti, per esempio se andiamo a prendere un Dropbox, tutte le animazioni quindi sono state leggermente riviste e sono ancora più fluide, piacevoli e graficamente accattivanti. Per quanto riguarda la fluidità di sistema, è veramente ottimo, nessun problema da un punto di vista né della gestione né dell'utilizzo di tutte le applicazioni, non ho notato per il momento criticità da un punto di vista proprio dei programmi installati, non cambia il kernel, rimane il kernel 3.4 e non cambia di fatto l'essenza del sistema operativo. Android M è infatti una versione più stabile di Android Lollipop, Android Marshmallow e non ci sono novità grafiche sostanziali, di fatto il material design è quello, ci sono semplicemente degli accorgimenti per quanto riguarda per esempio il premuto il tasto centrale, la home, come avete visto si carica una sorta di frame laterale bianco e va ad aprirsi il nostro Google Now. Questo succede in tutte le applicazioni, dunque per esempio se sono nella fotocamera e tengo premuto il tasto home, come vedete si carica Google Now, cosa che comunque è possibile fare anche facendo uno swipe verso l'alto, swipe verso l'alto che in teoria dovrebbe attivare il Now on tap, ma che ancora su questa developer preview non è comunque presente, soprattutto in italiano. dovremo aspettare comunque la release finale. Per quanto riguarda invece le impostazioni, i quick settings e tutto il sintonizzatore come lo definisce Google per la UI non è presente. In realtà è stato posizionato in un posto diverso, non è neanche disponibile nell'account di sviluppo, ma lo dovrete attivare andando a premere e tenere premuto il tasto impostazioni qua nella parte dei quick settings. A un certo punto la rotellina inizierà a girare e nel momento in cui la rotellina girerà, voi potrete smettere di cliccare e automaticamente avrete la informazione che avrete attivato il sintonizzatore di interfaccia utente di sistema. Cos'è questo? È un divertimento riservato a pochi eletti, come ci ricorda anche la stessa Google, ed è fondamentalmente un tuner dell'interfaccia di sistema che abbiamo già visto nella precedente developer preview, ma che è stato, come vedete, spostato. Ci permette di andare a modificare i quick settings, aggiungerne altri, modificare la posizione, intervenire sulle icone della barra di stato, andare a gestire la percentuale della batteria e quindi mostrarla o disattivarla, oppure attivare la modalità demo che adesso mostra l'orario 6.0. Vi ricordate che nella precedente modalità demo l'orario era le 5.20 e da lì nacque il discorso che l'Android M sarebbe stato la 5.2, cosa che a quanto pare Google ha cambiato in corso d'opera. Come vedete, nel momento in cui abbiamo il system tuner attivo, c'è accanto all'icona ingranaggio, un'icona del chiave inglese, diciamo così, cliccando di nuovo e tenendo premuto, appena inizia a girare la rotella, disattiveremo la funzionalità di system UI tuner. Quindi questa è una piccola modifica per quanto riguarda le impostazioni del sistema che però non va a cambiare quello che è l'essenza appunto del sistema operativo. Non ci sono poi altre reali novità, ci sono ancora dei piccoli errori, tra virgolette, dei piccoli bug, per esempio in display, se andiamo sotto sfondo, sono presenti due volte delle opzioni simili, sfondi, sfondo che sfondi riporta gli sfondi originali, sfondo va a aprire la cartella di sistema della galleria e foto fa la stessa cosa. Quindi probabilmente qua ci sarà ancora qualche piccola modifica o qualche informazione in più per capire un po' di che applicazione e di che ambiente si parla. Si parlava di sfondi, ci sono dei nuovi sfondi piacevoli, brutti, sta a voi giudicare. Di fatto gli sfondi di sistema di Android ma in generale di tutti i vari produttori non sono mai particolarmente belli, difficilmente chi è utente un po' attento che otterrà lo sfondo di default. Per il resto poco altro da dire, di fatto non vi sto a rifare una panoramica generale su quelle che sono le funzionalità di Android M, tutto è rimasto come vedete più o meno invariato, ci sono le nuove opzioni per quanto riguarda la gestione della memoria, tutte le varie funzionalità che sono state attivate da Google con la developer preview 2, non è cambiato da questo punto di vista rispetto a quello che era successo tra la 1 e la 2, l'interfaccia di sistema, infatti tutto è praticamente visto nello stesso modo e anche a livello di batteria e di gestione non ci sono novità. È possibile andare a visualizzare le applicazioni ottimizzate, quelle non ottimizzate oppure andare ad attivare il risparmio energetico che va a gestire il telefono con bande arancioni e disattivando praticamente tutte le animazioni. Però il passaggio, come vedete, da batteria risparmio energetico a normale è un pochino più veloce. Ci sono poi tutte le preferenze per l'audio e le notifiche, la possibilità di attivare la vibrazione per le chiamate e tutte le varie impostazioni per le notifiche e le notifiche dell'applicazione. Qui, di nuovo, sono tutte quelle funzionalità che abbiamo già visto in modo testuale sulla Devil Roll Preview 2 e che comunque non cambiano nella caratterizzazione generale del sistema. Dunque Android Marshmallow si conferma essere un'evoluzione in chiave stabilità di Android Lollipop, tante piccole rivisitazioni, un nome ufficiale che sarà un tormentone per tutto il prossimo anno, di fatto, e un aggiornamento che speriamo possa arrivare molto velocemente su tutti i top gamma e non solo usciti in quest'anno e nel precedente anno. Di fatto Lollipop è confermabile come un sistema operativo che non ha avuto il successo che si sperava, troppi bug, troppi problemi, che hanno trascinato con sé anche una serie di prodotti non particolarmente infortunati, soprattutto lato, batteria e gestione delle risorse. Android M dovrebbe risolvere tutto questo, noi lo speriamo davvero col cuore.